La polizia ha arrestato a Bari 10 persone, tutte con precedenti penali, con l'accusa di aver partecipato al tentato omicidio di altre due persone pregiudicate la sera del 18 settembre 2018. La polizia ha arrestato nel quartiere Madonnella per la DDA, la criminalità pugliese in continua mutazione. Sta scatenando l'indignazione di tanti cittadini, il video riportato dal canale Telegram Emergenza, Baby Gang e Bullismo, in cui si vede un ragazzino che sferra un calcio e fa finire in mare un uomo sul lungomare di Bari. Tanti i commenti di condanna sui social. Con la prova scritta di italiano cominciano domani gli esami di immaturità. Sono 36 mila di studenti pugliesi coinvolti, alle 8.30 il suono della campanella ed è già autotraccia. Ultima edizione della nostra informazione. Ben ritrovati, quasi 130 milioni di beni confiscati alle mafie. La relazione della DIA presentata a Roma mette a fuoco l'attività della criminalità organizzata in Italia. Dati preoccupanti riguardano l'uso delle armi e il narcotraffico. Rischi anche per i fondi del PNRR con il conseguente aumento di episodi di illegalità nei confronti di amministratori locali. Francesco Manigrasso. Oltre 29 milioni di beni sequestrati e quasi 130 milioni di beni confiscati sono alcuni dei dati dell'azione di contrasto ai gruppi mafiosi contenuti nella relazione semestrale della DIA relativa all'attività svolta nei primi sei mesi del 2023. Una relazione che restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose abbiano da tempo implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza sempre più residuale ma mai ripudiata con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive. La lotta alle mafie registra un aumento cospicuo di sequestre di armi anche da guerra. A livello europeo e quindi a livello nazionale si sta registrando un aumento delle armi nella disponibilità delle organizzazioni mafiose. Ovviamente questo fa sì che occorra tenere la guardia alta per evitare che le organizzazioni alzino il tiro di conflittualità con le istituzioni. La lotta al narcotraffico vede protagonisti i clan albanesi fortemente radicati in Italia. Negli ultimi anni anche l'Africa occidentale è diventata per le cosche di Andrangheta una tappa sempre più importante per i propri traffici. Costa d'Avorio, la Guinea e il Ghana sono diventate cruciali basi logistiche per i narcos. La tecnologia poi assume per le mafie uno strumento determinante che deve essere controllato. C'è poi un dato a preoccupare la DIA. Le mafie sono sempre più interessate ai fondi del PNRR con amministratori locali sempre più sotto assedio. E dove i tanti pubblici amministratori si oppongono a queste infiltrazioni sono purtroppo oggetto di danni, di minacce affinché possano piegarsi a queste associazioni. La criminalità organizzata pugliese in continua mutazione è quanto emerge dalla relazione della direzione distrittuale antimafia relativa al primo trimestre del 2023. Sentiamo Gianmarco di Napoli. La criminalità organizzata pugliese resta profondamente territoriale con i clan arroccati quasi sempre all'interno delle loro province e quando gli sconfinamenti avvengono sono sempre compiuti in accordo con le bande che controllano quei territori. La relazione della direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 2023 e pubblicata in queste ore ci restituisce una regione, la Puglia, in cui la mappa della criminalità organizzata è varia quanto il numero delle province con alcuni clan che tentano uno sconfinamento fuori dalla regione. I clan pugliesi hanno aperto dei veri e propri canali diretti in cui viene introdotto, stoccato e poi commercializzato le sostanze stupefacenti e non soltanto sostanze stupefacenti ma anche armi soprattutto di provenienza dall'Afghanistan. Nella città metropolitana di Bari viene confermata l'egemonia dei quattro gruppi storici corrispondenti ad altrettante famiglie, tra tutti quello degli strisciuglio attivi nel Borgo Antico. Viene considerato dalla DIA il clan più numeroso e aggressivo, quello che continua a vessare commercianti e imprenditori baresi. Nel rapporto della DIA la BAT viene considerata una sorta di terra di mezzo, qui aumentano in maniera preoccupante i sequestri lampo e i danni di imprenditori e facoltosi professionisti. La mafia foggiana resta la più articolata e sanguinaria, due i fronti principali di interessi, quelli classici come traffico di droga, estorsioni e reati predatori e quelli affaristico-criminali, tesi a infiltrare l'economia legale attraverso il riciclaggio dei profitti illeciti. A Lecce i clan storici della Sacra Corona Unita convivono male nei quartieri con la possibilità, ipotizza la DIA, di scontri violenti e sanguinosi. Nel Brindisino i comuni della zona nord continuano a risentire dell'influenza della criminalità barese, mentre nel capoluogo i clan sono notevolmente depotenziati dalla decisione di alcuni boss di spicco di collaborare con la giustizia. Anche a Taranto c'è un tentativo di spartizione dei quartieri senza spargimento di sangue. Nel cuore della città vecchia continuano a dettar legge i Pizzolla e i Taurino. In provincia invece la situazione appare meno fluida, con alcuni gruppi criminali pericolosamente in opposizione tra di loro e il rischio di una nuova guerra dietro l'angolo. Gli aguati del settembre del 2018 tra i clan Stricciuglio e Palermiti per il controllo dello spaccio di droga al quartiere Madonella di Bari si concludono con 10 misure cautelari emesse dalla DDA del capoluogo. L'accusa è di duplice omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Antonella Fazio. Si concludono con 10 arresti le indagini sulla faida tra Sesciuglio e Palermiti per il controllo dello spaccio di droga nel quartiere Madonella di Bari che portò al duplice tentato omicidio di Andrea Fachechi. 28enne raggiunto da tre colpi di pistola la sera del 18 settembre 2018 mentre era a bordo della sua moto insieme a un sodale. Gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della DDA nei confronti di 10 pregiudicati baresi tutti tra i 25 e i 47 anni l'accusa è di duplice tentato omicidio con l'aggravante mafiosa. Secondo le indagini nell'estate del 2018 la Francia del clan Sirciuglio del quartiere San Paolo tentò di conquistare l'attività di traffico e spaccio del quartiere Madonella di Bari cercando di estromettere il clan Palermiti da sempre dominante in quel rione. La sera del 18 settembre gli obiettivi erano i due pregiudicati del clan di Yapigia che viaggiavano sullo scooter. Il comando armato su un'auto urbata e tre moto aprì il fuoco incurante della presenza dei cittadini per strada. Il passeggero dello scooter riuscì a sottrarsi ai proiettili mentre Fachechi dopo un delicato intervento chirurgico riuscì a salvarsi. Compiuto l'agguato una delle moto utilizzate dai sicari fu data alle fiamme mentre per le altre moto appartenenti ad esponenti del clan Sirciuglio furono presentate false denunce di furto per ostacolare le indagini. La risposta del clan Palermiti arrivò meno di una settimana dopo con l'agguato a Carbonara in via Menichella in cui perse la vita Michele Walter Raffaschieri di 24 anni. Suo fratello Alessandro in moto con lui rimase gravemente ferito. I due erano a bordo di una Honda X quando sono partiti colpi di pistola da una Renault Laguna. Ci sposiamo adesso in Capitanata. Sono otto le persone arrestate dai carabinieri di Manfredonia su ordinanza del GIP di Foggia per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sette sono finite in carcere e una invece agli arresti domiciliari. Antonella Damora. Spaccio di sostanze stupefacenti in concorso ed estorsione sono in tutt'otto i soggetti destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare di cui sette in carcere ed una ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di Manfredonia. L'attività investigativa rappresenta la prosecuzione di un'ulteriore indagine che aveva portato nel febbraio 2022 all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di tre persone accusate di spaccio di sostanza stupefacente. L'oderna operazione ha consentito di documentare da gennaio ad agosto del 2023 un florido traffico di cocaina e hashish venduti sia all'ingrosso che al dettaglio nella cittadina sipontina, nonché di accertare il ricorso alla violenza e a minacce di ritorsione da parte di un indagato nei confronti di due vittime per la riscossione di un debito di oltre 2.000 euro maturato per l'acquisto di droga, poi saldato in almeno due tranche. A riscontro delle attività condotte nel corso delle indagini, due persone sono state arrestate per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente e sette assuntori sono stati segnalati alla prefettura di Foggia. Restiamo in terra sipontina, c'è anche il nome dell'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rottice tra le dieci persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini dell'inchiesta della procura di Foggia che il 9 marzo scorso aveva notificato a sette persone misure cautelari per violenza privata, concussione e concorso in falso. Insieme all'ex sindaco Rottice figura il fratello Michele. Sono accusati di voto di scambio nell'ambito della vicenda del ristorante sul mare Guarda Chielluna di proprietà del pregiudicato Michele Romito. Secondo l'ipotesi accusatoria per evitare lo smontaggio del ristorante, Romito avrebbe fatto pressioni sulla struttura amministrativa e sull'apparato politico del comune. Cinque ragazzi di Tarantini sono stati denunciati per lista, lesioni aggravate e porto abusivo di armi in seguito all'accoltelamento avvenuto due giorni fa all'uscita di una discoteca di Gallipoli. Sentiamo. E di cinque denunce per i reati di rissa, lesioni aggravate e porto abusivo di armi il risultato dell'attività investigativa svolta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli in seguito all'intervento effettuato presso il parcheggio di una nota discoteca in località Bagliaverde nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle cinque del mattino, dopo aver passato la serata a festeggiare, alcuni giovani per futili motivi legati a uno sguardo di troppo nei confronti di una donna hanno dato vita ad un acceso diverbio sfociato poi in un accoltellamento nei confronti di un 26enne e un 31enne del posto, uno dei quali ha riportato una prognosi di 30 giorni. Secondo l'attività investigativa condotta grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti, un giovane tarantino incensurato dopo aver inferto le coltellate ai due leccesi avrebbe cercato di scappare perché a rischio linciaggio tanto da riuscire a trovare un passaggio per Taranto. Gli investigatori però nell'arco di poche ore sono riusciti a rintracciarlo e a portarlo in commissariato dove nel corso di un interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità e raccontato tutto l'accaduto mentre i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità degli altri quattro responsabili nei confronti dei quali saranno valutate ulteriori misure di prevenzione personali quali da Spurbani mentre per due di loro in quanto gravati da precedenti penali sarà proposta l'applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Gallipoli rispettivamente per un periodo di due e tre anni. Passa in prima lettura la riforma del premierato al Senato maggioranza esulta, opposizioni si coalizzano e protestano in piazza Santi Apostoli a Roma, stanno spaccando l'Italia e la Costituzione, dicono Francesco Minigas. Noi siamo orgogliosi di aver approvato in prima lettura questa riforma che dà più potere ai cittadini dà più stabilità al governo, i governi devono essere scelti dal voto dei cittadini e non attraverso inciuci, giochi di palazzo. In Senato arriva il primo ok alla riforma costituzionale per l'elezione e i poteri del Presidente del Consiglio e il centrodestra accelera anche a Montecitorio sul DDL Calderoli giorno cruciale per la Premier Meloni che esulta e un primo passo. Il premierato è una riforma che vuole dare stabilità al governo e vuole soprattutto eliminare questo concetto o questa occasione di ribaltoni che ci sono stati nel corso della storia e che non sono mai piaciuti agli elettori perché giustamente il corpo elettorale va a votare, sceglie chi sceglie ha delitto di poter governare per tutta la legislatura. Tra Parlamento e piazza maggioranze e opposizioni sono pronte alla sfida su premierato e autonomia differenziata. A pochi passi dal Senato va in scena la protesta delle opposizioni unite, non tutte, mancazione Italia Viva. Conte scherza con i giornalisti, in mano una bandiera tricolore, vi sentite minacciati dice l'ex premier richiamando il caso dei giorni scorsi che ha coinvolto il suo parlamentare Leonardo Donno. contro l'autonomia differenziata spacca Italia, contro questo premierato che vuole insediare una donna sola al comando per cinque anni o un uomo solo al comando, la nostra risposta è forte, unitaria e un no passeranno. Dobbiamo fermarli, dice la segretaria da M.L. Schlein. La sedicente patriota pur di portare avanti la sua riforma spacca in due il paese perché stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l'autonomia differenziata, una riforma che vuole aumentare le diseguaglianze, rendere più difficile l'accesso alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, al trasporto pubblico locale. È importante essere qui. È la negazione dell'ispirazione della Repubblica che è fondata sull'unità, un'unità non formale, sostanziale, l'unità dei diritti di tutti e tutte, l'unità delle opportunità, delle possibilità. Non è normale un paese in cui si viene identificato e al primo minuto di gioco se si grida viva l'Italia antifascista. Si dice pronto a fare l'assessore alla cultura. Il ministro Gennaro San Giuliano è arrivato a Bari per lanciare la volata al balottaggio di Fabio Orromito. Antonella Fazio. Se è giuridicamente possibile, non ci sono delle incompatibilità, preciso, non ci sono delle incompatibilità, mi farebbe piacere fare l'assessore dell'Aggiunta Romito. È pronto, qualora ce ne siano le condizioni, a ricoprire il ruolo dell'assessore alla cultura di Bari. Il ministro Gennaro San Giuliano è arrivato nel capologo per sostenere la volata al balottaggio di Fabio Orromito, candidato del centro-destra alle amministrative Bari 2024. Il delegato del governo Meloni è solo il primo dei ministri che fino a venerdì prossimo sfileranno nel capologo pugliese per invitare i baresi a votare l'esponente della Lega in Consiglio regionale. Ai microfoni dei cronisti parla di una cultura trasversale che non sia da radical chic da ZTL, dei fondi dati alle bellezze architettoniche e culturali della città come il Castello Svevo e il Teatro Petruzzelli e della mancanza di una vera e propria segna culturale che promuova la città. Anche il B-Fest dice è qualcosa nato solo per pochi eletti. In chiusura, citando Pinuccio Tatarella, spiega. La politica culturale dell'amministrazione negli ultimi anni non è stata all'altezza del grande passato della città. Se io fossi un cittadino con ideali di centro-sinistra qui di Bari, voterei per il candidato del centro-destra perché le incrostazioni decennali del potere fanno male. Bravo, è competente, è giovane e poi per quello che le ho detto prima, cioè per garantire un'alternanza democratica dopo un lungo periodo del centro-sinistra. Bari ha bisogno di un festival internazionale, di un festival delle arti visive. Bari ha bisogno di guardare avanti. Prima uscita congiunta per il balottaggio alle comunali di Bari per Leccese e La Forgia. Legalità e contrasto alla povertà tra i punti in comune. E lo stesso avvocato dice non sono interessato alle poltrone. Domenico Brandonizio. Tutti insieme, appassionatamente. Michele La Forgia da un lato, Vito Leccese dall'altro. Insieme per un programma comune di centro-sinistra per governare la Bari che verrà nei prossimi cinque anni. Coesione e legalità prima di tutto. Credo che vada potenziato il sistema di protezione sociale in una città che ha ancora grandi diseguaglianze. Dopodiché io ho sempre detto che l'esperienza di buon governo di questi ultimi vent'anni ha consentito un'infrastrutturazione fisica della città. Oggi noi dobbiamo pensare all'infrastrutturazione sociale della città. Il fatto della legalità era già oggetto dell'accordo che avevamo siglato ad aprile, come sanno tutti quanti. Adesso lavoreremo sul programma, lavoreremo per arrivare uniti anche su tutti i contenuti al ballottaggio e soprattutto dopo perché la vera sfida non è vincere le elezioni, la vera sfida è governare e cambiare la città. Un programma comune dunque. Tra le priorità il contrasto alla povertà e lo stesso La Forgia si dice non interessato alle poltrone. Se io avessi voluto un ruolo nel prossimo governo cittadino non mi sarei candidato sindaco, non avremmo messo insieme un'altra parte di coalizione, non avremmo preso il 22% dei voti, 34 mila voti. Avrei fatto un accordo sulla mia persona e ho detto e ripetuto che non essendoci uno scopo personale io non parteciperò in prima persona al governo della città. Noi parteciperemo al governo della città. Ovviamente se come tutti quanti auspichiamo vincerà il ballottaggio il centro-sinistra e diventerà sindaco Vito Leccese. La segretaria del PD Elislein sarà a Bari il prossimo 20 giugno proprio per continuare a sostenere la candidatura di Vito Leccese. Intanto a Lecce il candidato sindaco Adriana Poli Bortone attacca l'assessore regionale Alessandro Delinoci. Per noi c'era alla nostra Maria Teresa Carrozza. Nel confronto che si è tenuto nelle scorse ore con la stampa la candidata sindaco del centro-destra Adriana Poli Bortone non ha risparmiato critiche al vetriolo verso l'assessore regionale Alessandro Delinoci. No, no, non abbiamo nessun rimpianto. Era autocritica, non rimpianti. Non abbiamo, le assicuro, nessun rimpianto. Ripeto, era autocritica la domanda, non se avete rimpianti. No, 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 non facciamo autocritica. Diciamo che non abbiamo rimpianti. Noi certe persone le dimentichiamo. E restiamo nel capoluogo Salentino dove è scontro per i parcheggi Salvemini. Ecco i miei 3.000 poli, dice, certifichi i suoi 5.000 posti. Carlo Salvemini, candidato sindaco di Lecce. Sentiamo sempre la nostra Maria Teresa Carrozza. Circa 3.000 posti autocertificati per Lecce dall'amministrazione uscente. Sono questi i dati ufficiali comunicati dal sindaco Carlo Salvemini in una conferenza stampa. Alcuni posti sono stati già consegnati alla città, altri sono stati già finanziati e sono soggetti all'ultimazione dei lavori di cantiere. Una doverosa nota, secondo Carlo Salvemini, a fronte del programma sventolato da Adriana Polibortone per il centrodestra, che annuncia l'arrivo di 5.000 posti auto in città. Sindaco, lei ha convocato una conferenza stampa per dare dei numeri inerenti ai parcheggi che sono previsti di prossima apertura nella città di Lecce. Dall'altra parte si parlano di 5.000 parcheggi. Ovviamente questo è un nervo scoperto per la città. Questa mappa che abbiamo appena presentato dà conto degli parcheggi nuovi aperti, di quelli di prossima apertura, di quelli progettati e finanziati che dovranno essere realizzati in un orizzonte temporale plausibile 2024-2029. Sono circa 3.000, li abbiamo visualizzati in modo che la città possa averne chiara la collocazione. Con altrettanta chiarezza chiedo che Adriana Polibortone, che ha annunciato 5.000 nuovi parcheggi a Lecce, si incarichi di farci capire dove verranno realizzati, chi dovrà provvedervi, con quali risorse e dentro quando. Io posso darvi notizia che ad oggi non vi sono nuovi progetti di investimento a capitale totalmente pubblico per nuovi parcheggi perché li abbiamo destinati tutti all'area ex foro guario. Non ci sono proposte di investimento a capitale totalmente privato né proposte di accordo partenariato pubblico privato. Quindi è legittimo chiedersi questi 5.000 nuovi parcheggi come sono stati immaginati. Dopo la settimana del G7, Brindisi consegna tanto all'album dei ricordi tra emozioni e strade tirate a lucido. Cristina Tacavallo. Il G7 è ormai alle spalle. La Puglia, ma sì, diciamolo senza paura di essere tacciati di campanilismo, Brindisi e provincia, sono stati al centro del mondo con il summit dei sette re grandi della terra. Borgo e Gnazia era e resterà uno straordinario resort di savelletti di Fasano. La vita è tornata alla normalità tra il capoluogo e la città della selva. Il continuo ronzio degli elicotteri, il via vai di mezzi delle forze dell'ordine, la fitta rete di posti di controllo sono già un ricordo. Come all'album della memoria è stato consegnato un momento dell'atterraggio dell'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Eventi che chissà se un giorno potranno ripetersi. Questo per quanto concerne il campo delle emozioni e delle sensazioni. Cosa resta invece a Brindisi dopo la straordinaria settimana del G7 e la cena di gala? Resta un castello svevo tirato a lucido che qualcuno vorrebbe più fruibile, vedi richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e ancora restano anche i parcheggi della zona acqua e chiare a due passi dall'aeroporto del Salento ma anche a due passi dai diversi lidi del litorale nord che potranno continuare a essere utilizzati da chi appunto si reca al mare e non solo. E poi fatto da non sottovalutare perché causa principale di ogni lamentela da parte dei residenti di ogni città che si rispetti le strade percorribili finalmente senza imprecazioni da parte di automobilisti grazie al rifacimento dell'asfalto nei presti del Castello Svevo e non solo. Insomma il G7 2024 è stato consegnato allo storia e chissà se i posti ricapiranno mai l'esultanza dei residenti alla vista dei grandi della terra ma anche per un po' di asfalto nuovo sul manto stradale. E restiamo in tema. Il territorio fasanese pensa ai frutti del G7 ed è pronta a rispondere con servizi di qualità alla visibilità ottenuta dall'appuntamento internazionale. Appena concluso sentiamo Davide Cucinelli. Fasano ha dobbata a festa questa volta non per il G7 ma per i preparativi della festa patronale. Ma cosa resta dell'evento internazionale che ha visto il territorio fasanese, brinisino e pugliese al centro dell'attenzione mondiale? Lo abbiamo chiesto al primo cittadino che ovviamente adesso guarda al futuro e ai riscontri che potranno arrivare dal punto di vista turistico ed economico per tutto il territorio. Noi speriamo che questa occasione che ci è stata offerta possa innescare una ulteriore dinamica virtuosa e che quindi la nostra visibilità e le presenze turistiche possano incrementare ma se non riusciremo a essere al passo con le esigenze che i turisti ci richiedono nei loro soggiorni questa visibilità potrebbe anche essere un boomerang. Dobbiamo essere pronti a farci trovare appunto pronti con servizi sempre migliori. In questo devo dire che la regione potrebbe darci una mano soprattutto con riferimento alla mobilità interna nei territori che è sempre più indispensabile ed è sempre più richiesta dei turisti che vengono a Fasano è vero ma poi girano e circolano e visitano tutto il comprensorio. Ci fa piacere che questo resort sia nel nostro territorio, ci fa piacere che abbia questa visibilità e io ringrazio ovviamente i lavoratori e il management e la proprietà di Borghegnaz che è stata insomma inappuntabile e ha gestito al meglio le tantissime problematiche che si sono sommate a quelle già ordinarie per ospitare un evento così importante. Ci fermiamo per un break pubblicitario, l'informazione di Antena Sud torna tra poco. Ben ritrovati, un cortocircuito dovrebbe essere stata la causa dell'incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento al terzo piano di un grande edificio in via delle Querce al quartiere Barberini di Barletta. In casa c'era un ragazzo che si è accorto in tempo delle fiamme e si è messo in salvo. A domani il rogo i vigili del fuoco intervenuti con tre autobutti e un'autoscala. L'incendio ha danneggiato gran parte dell'abitazione. Lo stabile è stato evacuato per precauzione. Cade in acqua dopo un calcio sferrato mentre cammina sul lungomare. Violenza contro un uomo postata sui social. Sentiamo Flavio Insalata. Il video del folle gesto sta facendo il giro del web. Un uomo con evidenti problemi psichiatrici che camminava sul lungomare di Bari è stato scaraventato in acqua con un calcio da un ragazzo mentre una terza persona documentava il tutto filmando la scena con uno smartphone. Le immagini postate inizialmente su TikTok e poi rimosse dall'utente sono state diffuse sulla pagina Telegram Emergenza Baby Gang e Bullismo Fermiamoli e sono state poi ripostate da tantissimi utenti su Facebook, Instagram e sullo stesso TikTok scatenando l'indignazione e il sentimento di condanna. Stiamo davvero lasciando crescere essere spregevoli come questi e nessuno che intervenga nella giusta maniera. Veramente sono rattristata e profondamente ferita da quanto appena visto scrive un utente su Instagram. Vergogna per lui e per chi ha girato il video ne scrive un altro. Al momento non risultano interventi delle forze dell'ordine sul caso. La maratona oratoria promossa dall'Unione delle Camere Penali italiane fa tappa a Foggia nel piazzale di Palazzo di Giustizia. Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare i cittadini e istituzioni sul tema delle carceri. Antonella Davola. La tragedia dei suicidi in carcere che noi abbiamo scritto erano 42 fino all'altro giorno. Stamattina sono 44. Quindi è un work in progress come si dice negli ambienti in cui si dicono le cose giuste. E purtroppo ce ne aspettiamo degli altri. Avvocati, magistrati, operatori giudiziari e associazioni rispondono all'appello dell'Unione delle Camere Penali italiane partecipando all'iniziativa della maratona oratoria staffetta focalizzata sul tema dei diritti umani all'interno delle carceri con particolare attenzione al dramma dei suicidi e svoltasi nel piazzale di Palazzo di Giustizia a Foggia. Dal sovraffollamento al ripensamento del ruolo stesso della detenzione i temi su cui i protagonisti della giornata hanno focalizzato l'attenzione. La situazione locale è quella che il carcere di Foggia ad esempio dove c'è stato un suicidio qualche settimana fa, uno dei 44, ha una popolazione carceraria praticamente il doppio della capienza. Ora immaginate cosa significa per una famiglia di 4 persone vivere in due stanze diventano improvvisamente 8 persone e questo significa disagio, significa solitudine, significa limitazione delle funzioni più essenziali, significa stare male. Il disagio provoca queste cose. È l'occasione per riflettere su una situazione su cui da parecchio io rifletto e c'è un problema proprio di capire che senso ha oggi la detenzione. Oggi il carcere è un luogo solo di detenzione, di segregazione senza ricostruzione di prospettive future. Per cui poi non deve meravigliare se la recidiva raggiunge dei livelli assolutamente ingiustificati, assolutamente inaccettabili. Forse l'intero processo va cambiato in una logica della giustizia riparativa che è quella dell'incontro e non dello scontro. Strade private e accessi a spiagge pubbliche è un problema che ogni estate torna a riproporsi e su cui c'è anche un grosso dibattito giurisprudenziale. Analizziamo il caso della tratta di costa tra Bisceglie e Trani dove nei prossimi giorni se ne discuterà anche in Consiglio Comunale. Andrea Catino. L'accesso al mare deve essere sempre garantito? Come ogni anno con l'arrivo della bella stagione si torna a parlare di questo annoso tema che divide amministrazioni, proprietari privati e bagnanti, ma non solo. Spesso queste vicende, soprattutto relativamente alle strade private che portano alle spiagge chiuse con recinzioni e cancelli dei proprietari, finiscono anche in tribunale con pronunce vari delle corti. La Cassazione nel 2017, richiamando il codice della strada, sembrerebbe aver fornito un'indicazione chiara circa l'impossibilità dei condomini di chiudere con cancelli l'accesso al mare anche se la strada è natura privata. Il sindaco in questo caso ha un grande strumento, ovvero quello di dichiarare la strada di accesso al mare, specie quando si tratta dell'unico sbocco, come strada di uso pubblico. Pertanto in caso di recinzioni o di vieti nei confronti degli estranei potrebbe scattare una sanzione amministrativa nei confronti del condominio. A tal riguardo è un buon caso di analisi quello del tratto di costa tra Trani e Biceglie, di grandissimo pregio naturalistico ma di fruizione estremamente difficile a causa degli accessi alle spiagge chiusi da cancelli. Su circa 15 strade che portano al mare, solo un paio risultano aperte anche se con il consueto avvertimento di divieto l'ingresso. Giovedì l'amministrazione comunale andrà in consiglio e tra i punti all'ordine del giorno ci sarà proprio la questione del litorale est. Si punterà quindi a sistemare ed ampliare i passaggi e gli accessi alla spiaggia dal lato costiero, permettendo all'amministrazione di togliere le castagne dal fuoco ed evitare uno scontro con i proprietari privati a suon di espropri. Interviene l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ugento, Alessio Meli, sui lavori riguardo la rete idrica e fognaria che stanno interessando la marina di Torre San Giovanni. con l'estate ormai alle porte. Francesco Schiavano. Torre San Giovanni oggi come oggi non deve essere guardata con il disagio temporale. Stiamo puntando oggi come oggi a garantire la salubrità dell'organismo dell'intera frazione per passare poi successivamente al completamento e alla salvaguardia dell'aspetto esteriore. risponde così l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ugento, Alessio Meli, ai dubbi, perplessità e anche polemiche dei cittadini e residenti della marina di Torre San Giovanni, i quali a ridosso dell'estate assistono alla chiusura al traffico di numerose arterie urbane. Il motivo è l'esecuzione dei lavori di completamento della rete idrica e fognaria nel centro abitato, un'opera necessaria secondo l'amministrazione comunale urgentina che porta avanti dall'ottobre scorso. Non dimentichiamo che fino ad oggi decenni sono file, catene di camion deputati al prelievo delle acque nere dai singoli pozzi che derivano dalle utenze civili e costituiscono un vero problema, se non altro per i cattivi odori, se non altro per l'ingessatura del traffico su strade principali. Quindi queste sono azioni propedeutiche ad eliminare quelle che sono purtroppo viste come delle normalità gestionali. La normalità gestionale è quella che stiamo eseguendo noi. Il 30 giugno, secondo quanto riferisce l'assessore, sarà per Torre San Giovanni l'ultimo giorno di esecuzione dei lavori da parte delle maestranze? Le operazioni di scavo sono già terminate e dal 5 giugno scorso decorrono i lavori di asfalto e di copertura parziale dei tratti stradali. Dopodomani avremo un'importante riunione in videoconferenza insieme al responsabile unico del procedimento, la direzione dei lavori di ACUPI, al responsabile tecnico del raggruppamento dell'impresa per concordare le azioni da compiere da qui al 30 giugno. A Taranto, salute e ambiente in primo piano con il progetto Calliope. Valentina Fanigliulo. Dalla ricerca alle start-up, ecotossicologia dei metalli pesanti e del genotoxic test. Questi temi è al centro dell'incontro promosso nella sede di Calliope negli ex baraccamenti cattolica di Taranto da Technopolis, un progetto che rilancia i temi dell'ambiente e della salute. Lo sforzo è tutto concentrato sul trasformare quello che avviene nei laboratori e nei programmi di ricerca nei risultati concreti, cioè in aziende che offrono prodotti e servizi innovativi che devono migliorare la salute dell'uomo, dell'ambiente, degli animali, in modo insomma di contribuire a quel One Health che è il sottotitolo di questo progetto. Una salute unica per l'uomo, l'ambiente in cui vive e ovviamente anche la parte animale di questo ambiente. La genotoxic è la prima start-up che presentiamo dal pubblico, nata nell'ambito delle ricerche svolte a Technopolis sul tema e poi arrivata a compimento l'anno scorso proprio agli esordi del progetto Calliope. Genotoxic offre un test in autosomministrazione che permette di valutare il coefficiente di rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare determinata da infiammazioni che sono collegate alla presenza di metalli pesanti all'interno del nostro organismo. Come li prendiamo? Li prendiamo respirando, mangiando, bevendo, cioè qualsiasi cosa che introduciamo nel nostro organismo può generare questo stato infiammatorio che poi aumenta il tasso di rischio di contrarre determinate patologie. Mancano poche ore alla maturità, si parte domani con gli esami di Stato in tutta Italia. Alle 8 e 30 scatta la prima prova ed è già partito il toto traccia. Sentiamo la nostra Maria Fiorella. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina? Allora è scoppiata all'incirca due anni fa a febbraio. Nel giugno 23. Mancano ormai meno di 24 ore alla maturità 2024 e sulla traccia più discusa e attesa qualcuno ha ancora delle titubanze, ma fortunatamente il ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce. Tra gli autori di letteratura più quotati ci sarebbero Giuseppe Ungaretti, Luigi Pirandello e Gabriele D'Annunzio. Dando uno sguardo alle ricorrenze storiche invece spicca la prima guerra mondiale, lo sbarco in Normandia o anche riferimento all'attualità come il conflitto israelo-palestinese e la guerra in Ucraina. Spero che escano tracce fattibili, soprattutto attualità, perché penso che di molti temi attuali non se ne stia parlando abbastanza. Spero in un tema sulle guerre, in generale sulla situazione attuale. Probabilmente su Ungaretti perché è molto collegata alle guerre. Tra le tracce ancora potrebbero trovare spazio le nuove frontiere aperte all'intelligenza artificiale. Altro tema plausibile anche perché tristemente presente nella società e la violenza di genere. Per l'attualità molti citano per esempio Oppenheimer per dire nel film del successo che ha riportato e anche effettivamente tutta la questione della guerra. La traccia di domani quale potrebbe essere? La guerra penso. Violenza di genere, guerra e intelligenza artificiale. Saresti pronto per sviluppare una traccia del genere? No. Tu saresti pronto? No. Intanto stasera tutti insieme per una preghiera il più possibile persuasiva con la colonna sonora più amata di sempre. Noi sei prima degli esami alle otto e mezza, ci facciamo fare una benedizione dalla pastorale. Icona del calcio Roberto Donadoni a Taranto per il progetto Fuorigioco, un torneo per i detenuti. Sentiamo Leo Spalluto. Quando lo sport diventa lo strumento perfetto per il recupero di chi ha sbagliato, torna a quest'anno dopo la pausa imposta dalla pandemia a fuorigioco, giunto alla settima edizione. Il progetto organizzato dalla PS Fuorigioco con il patrocinio del Ministero della Giustizia è iniziato a febbraio e in questi mesi ha visto realizzare, presso la casa circondriale di Taranto, diverse attività per promuovere la cottura della legalità e i valori dello sport tra i detenuti. L'iniziativa si concluderà con un torneo di calcio che alle 17.30 di sabato 22 giugno sul manto dello stadio Iacovone di Taranto vedrà sfidarsi detenuti magistrati, avvocati e polizia penitenziaria. Sono intervenuti quelli testimoni al di eccezione Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan e della Nazionale Italiana, e Renato Olive. È altrettanto importante, oltre al fatto di spendere parole positive, prestarsi anche materialmente a contribuire e a far sì che queste manifestazioni diano un sostegno, un aiuto a chi chiaramente è stato più in difficoltà di noi. Questo è un bellissimo percorso, un bellissimo progetto di rieducazione per i detenuti che vede da vicino l'amministrazione, vede da vicino l'associazione ETS fuori gioco che ringraziamo per il lavoro che ha svolto. Riscontrare la presenza e l'attenzione da parte di tante personalità rilevanti del mondo della giustizia, del mondo del sociale, riempie d'orgoglio anche me. E questo è lo suo ultimo servizio e vi lascio con l'informazione e la programmazione di Antena Sud. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.